Buonasera a tutti e benvenuti a Novis. E' in corsa a Barcis la ricerca di una femmina di 50 sietans di Montreal, che è sparita domenica di lunca, di un'escursione sul Troi d'Aleddint. A portare le ricerche a Chietafure la macchina di femmina in località Quint Antoi. A ricerche partecipi gli sguardi dal FUC, il soccorso al PIN, la protezione civile e la guardia di finanza, cui chianza le sta attivata anche il nucleo subacquis per scominciare le ricerche sintallate. A sono dujinta e cinquantatré i news positives al Covid, tess'ultimi svinti e quattri ori, a fronte di mil cincent e vintiun tampons molecolars e doi mila cinquantadoi testi svelz. A sono sisi pazienti ricoverati in terapia intensive, in che ha i tre reparts, a sono cent e sessante un personis. I co-regionai in isolamento domiciliare, a sono vinti e tre mila, siss cent e sessanta. A resta confermati il siopar proclamato per il 13 di mai del Sanitat Pordenonese, ma si viergin svesis per trattative alle cetanche le venute su dall'inquintri, tra gli sigli sindacati di aziende sanitarie del Friulo Occidentale e il vicepresidente regional Riccardi, che approverà a Mediacule aziende per chietà una soluzione. Finché non sono modificazioni sconcreti, s'anditi i sindacati, il siopar resta in programma. Il Tribunal di Udina ha la data tre ans di reclusione, ogni dunga, une cubie di nomads, riconoscius colpevoli di rapine, quintri di une botteghe di estile di cinese. In tal settembre del 2018, in tal centri commerciale Alpe Adria di Chiassà, la femmine in resta di Chiapade a Robaone, borse, beccate dal femmine e dal titolare, in che il momento ha son intervenius il compagno di femmine e il fide commerciante, che è stato colpito dall'OMCuntun Pugnintemuse, i due nomads a ieri in Schiampas. Dopo, alle manchiate Narciso Barutti, già scindic di San Vite di Feagno, il veve settante sisagne, alle resta scindic tra il 95 e il 2004, e ora presente alle reconseglie comunale. Alle erano persone appassionate dal suo lavoro e della politica, l'ha commentato il scindic Michele Fabbro, una memorie storiche dal territorio all'arrivata trasmette la sua passione anche a tanti politici di Cumò. Conseguire provinciale Deana, Barutti e l'erede da organizzare per partecipare, a edunare dai Alpins ai voti di Mai a Rimini. Chiamare di Cumierce, Confcumierce e Divierce Scindics hanno firmato un elettere di Intendiments per costituzione dal distrette del Cumierce Tresemane, una quardica la chiatatla poi e dall'assessore regionale Sergio Emidiobini a siglare la lettera sono starsi Scindics di Tavagnà Moreno Lirutti, di Reane Emiliano Canciani, di Trezesi in Giorgio Baiutti e di Chiassà Ornella Baiutti, insieme al Presidente di Reti Imprese, Smarchiat Newf, Antonio Orgnani, e con il Presidente, Chiamare di Cumierce, Spordenon Udin, Giovanni D'Apozzo, il Vice Presidente di Confcumierce Udin Fabio Passone e il stesso Assessor Bini. La quardia al ponte ha rigenerazione dal centro locale desari surbanis a vocazione commerciale, tornante a rivitalizzare la tratturistica e creante occasionse di aggregazione e socialitate. E ho sentito il parè dal Scindic di Tavagnà Moreno Lirutti su che stacquardi. Prima di tutto, la realtà delle tre settimane è una realtà unica in questa regione e forse anche a livello nazionale per la densità di imprese. Non solo commerciale, ma ormai la tre settimane è una realtà anche per la ristorazione, per il divertimento, per i studi professionali, quindi è una realtà che vuole cambiare. E come chi è adeguato e offrire i servizi che vengono in Daz. Allora, è importante questa lettera perché i comuni, quattro comuni che sono taccati sulla tre settimane, la regione, Confcommercio, la Camera di Commercio e le associazioni delle imprese che sono da imprenditori che sono lì sul territorio si mettono insieme per valorizzare i territori. E dopo l'alleanza è importante perché valorizzando la tre settimane non valorizziamo solo il tocco di strada lì, ma tutto il territorio. Perché a Tavagnà, per esempio, ma a Reane, a Trese, a Anchecchia, la tre settimane è a unire il territorio comunale. Per Reane non è un problema che tutti è di una banda, ma per noi diventerà una strada abitabile che unisce le frazioni che sono di una banda con chi sa, così tre settimane che ha le spaccate tre settimane e così c'è. Il Ciaf Group in Consei Regional dal Movimento Cinque Stellis, Mauro Capozzella, presenterà un'interrogazione per conoscere le iniziative del regione regionale sulla tutela e valorizzazione dal SPARC Blanc Furlan. L'obiettivo fa le da vite a un processo di riconoscimento IGP o DOP alla Sclarit Capozzella con diverse zone in questa regione la che il SPARC è un'attività primaria. Ha esistito in tanti sagri, se vengi mens per promuovere, queste rotaie, la conclude il Consei, firma a sogni iniziative Sleadis e Portadis in denante, dome dall'impegno dai volontari. La regione ha presentato un investimento di 6 milioni di euro per creazione di una serie di collegamenti estives con Cravoazze, Austria e Slovenia. Il tren di Udina-Villa a quinta e fine settimana arriverà fino a Triest con la conferma dal diretto Triest-Vienne con fermari Sagraz e Ljubljane. E in pluita al 2022 al chiapparà la via anche il collegamento in corriere tra Triest e Parenzo. e al tornerà la LISCAF che al collegherà la Nessere Dion con Pirampa, Renzo Rovigno e Lussin Piccolo. E per osgnote alle dute, Gnovi, Saltone, io e Bessin, per i snuvman col vini e sozzare. Mandim e buone serate. Autore dei sovrapposti